Ampio turnover per i due tecnici, Ciullo punta sul 4-4-2 con novembre tre palle, linea difensiva con Bovesi, Cignano, Cacace e Acucu. Sulla mediana Greco, Favia De Martino e Martinelli, Albano e Tedesco in attacco. Cinque under in campo per il Brindisi, turnover anche per Mr. Favarin. Quinto minuto, triangolo del Brindisi nello stretto tiro di Albano fuori. Ventesimo, tiro dalla lunga distanza di Logrieco, palla deviata ma nessun problema per novembre. Elbiceglie a fare la partita del Brindisi appare contratto. Ventisettesimo, verticalizzazione per Lattanzio, super novembre che sarà poi decisivo nei 90 minuti e anche oltre. Ancora Biceglie al ventottesimo, cross dalla sinistra Lattanzio con un pizzico di ritardo. Si gioca sotto la pioggia, un vero e proprio temporale quello che si abbatte sul Fanuzzi. Trentesimo, tiro di Logrieco, respinge novembre. Trentatresimo, tiro di Lattanzio, si allunga ancora il portierone bianco-azzurro. Il Brindisi è in difficoltà, si fa vedere al trentasettesimo, retropassaggio per Jurlo che rilancia male. Tedesco viene atterrato in area di rigore ma per l'arbitro è tutto regolare, protesta il Brindisi. Quarantacinquesimo, Albano apre per Tedesco che tocca con l'abbraccio nel tentativo di controllare la sfera. L'occasione per i padroni di casa. Con il montaggio di Nicola Damo passiamo alla ripresa. Cambia la partita, cambiano anche i due tecnici. Nella Biceglie entra Gambuzza, esce Allegrini. Primo minuto, testa di Logrieco, fuori. Cambio nella Brindisi, entra Marsili, esce Greco. L'ingresso di Marsili stravolge completamente la partita. Prestazione monumentale per l'ex centrocampista della Roma. Entra anche Liotti per Fella. Diciottesimo, ci prova Tedesco dalla distanza. Diciannovesimo, out Pizzutelli nel Biceglie dentro l'amatrice. Entra anche Titone per Logrieco. Ventottesimo, triangolo largo. Martinelli crossa al centro e Marsili non trova la coincidenza sul binario del gol. Davvero per un soffio. Trentesimo, splendida azione della Brindisi. Tutta di prima, Marsili, Albano, Tedesco, Albano. Conclusione a lato. Azione davvero da rivedere il Brindisi. Adesso fa la gara, è cambiato il copione della match. Trentaduesimo, ripartenza Brindisi. Marsili sulla destra, lancia Liotti verso la rete. Fermato in sospetto offside. Trentacinquesimo, tiro di Liotti. Conclusione alta. Trentottesimo, Tedesco dalla tre quarti para Iurlo. Quarantottesimo, nell'ultimo minuto di recupero, Ciullo fa entrare Pellecchia al posto di Siciliano. Pensando chiaramente ai calci di rigore, finisce 0-0 nei 90 regolamentari. Il drammatico momento della lotteria dei tiri dagli 11 metri. Novembre, para su Lattanzio, allungandosi nell'angolino alla sua sinistra. Nell'ultimo rigore, invece, De Martino batte Iurlo. Il Brindisi si qualifica agli ottavi di Coppa Italia. Grazie. Grazie. Grazie.